Il Covid-19 continua a circolare anche se gli immunizzati non rischiano conseguenze gravi come prima della vaccinazione. È necessario però non abbassare la guardia. A Teramo l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea fino al prossimo mercoledì 27 ottobre dell'asilo Il Girasole di Via Diaz. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'esito di un tampone molecolare risultato positivo effettuato da un'educatrice della struttura scolastica. È possibile che tale positività sia da ricondurre ad una situazione familiare. Tuttavia il comune di Teramo, di concerto con l'azienda sanitaria e l'UCAT, ha ritenuto doveroso e necessario intervenire tempestivamente e chiudere per alcuni giorni l'asilo. Intanto in queste ore è in corso l'attività di tracciamento per ricostruire tutti i contatti avvenuti nelle ore precedenti e successivamente si provvederà a verifiche su soggetti interessati. Il personale educativo e non entrato in contatto con la paziente positiva sarà sottoposto a tampone. Nella quasi totalità dei casi si tratta però di persone che hanno completato l'iter vaccinale. Nei giorni successivi sarà invece il turno di tutti i bambini e le bambine che rientreranno nel tracciamento. Il sindaco Gian Guido D'Alberto e l'assessore alla pubblica istruzione Andrea Core hanno già chiesto un confronto con l'azienda sanitaria terramana per verificare i protocolli adottati e ragionare su possibili modifiche e integrazioni da portare per fronteggiare questa nuova fase emergenziale. I dati però parlano chiaro. I casi di contagio sono in diminuzione tra una popolazione scolastica che ha risposto assai bene alla campagna vaccinale. Ad oggi, complessivamente in provincia di Terramo, i nuovi positivi sono 19.